La pellicola del cinema ci ha diviso, noi siamo amici da tanti anni, lui mi ha proposto, si sta preparando un film che fa, lo fai? Se lo devo fare un pubblico, non l'ho letto il libro, non l'ho letto la sceneggiatura, ho detto sì. Poi quando ho letto, disse, mamma mia come faccio a scagliarmi contro il mio amico? Però è un romanzo, attenzione, quindi lo devo fare, lo sento da volentieri. Però guardate, siamo talmente amici che là sono veramente, mi faccio schifo proprio io, cioè sono esagerato, sono esageratissimo, quindi l'importante è che abbiamo fatto, spero di aver fatto un ottimo lavoro, una buona interpretazione a questo stampo. Esattamente l'opposto della realtà di quello che noi effettivamente siamo, siamo amici da molti anni.